Pietro Taricone è sicuramente uno tra i più popolari concorrenti del Grande Fratello, quello che è riuscito a conquistarsi da subito l'affetto del pubblico. Dentro la casa era O Guerriero, si fece notare non solo per la sua simpatia e i suoi modi schietti, ma anche per essere l'uomo delle prime volte. Il primo episodio hot del reality show, infatti, lo vide nascondersi assieme a Cristina Plevani dietro una tendra per avere qualche momento privato. Taricone, anche se non vinse il Grande Fratello, è riuscito a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Interprete di alcune fiction come Distretto di Polizia e Codice Rosso, ha fatto anche delle capatine nel cinema. Ricordati di me, di Muccino, Maradona, La mano dei Dios di Marco Risi e Radio West di Alessandro Valori, dove ha conosciuto la sua compagna, Karsia Smutniak, dalla quale nel 2004 ha avuto una bimba. Entrambi, fuori dal set, hanno scelto di avere una vita semplice, a contatto con la natura e con gli animali, uniti dalla comune passione per il paracadutismo. L'ultimo impegno in tv ha permesso a Pietro Taricone di dimostrare tutta la sua ironia, interpretando, in tutti i pazzi per amore, Ermanno, un rappresentante di cioccolatini, tutto muscoli e romanticismo. Un ruolo che gli ha permesso di conquistare un'ancora più ampia fetta di pubblico, che lo ha certamente apprezzato anche per la sua verve comica. Grazie a tutti!